4, 2, 2, RACE! E' stato un gennaio già piuttosto impegnativo, sono stato un paio di volte qui in factory e al simulatore in Inghilterra, seguendo quello che gli uomini stanno facendo qui, sulla nuova vettura, poi mi sono rimesso in forma, ho fatto un bel allenamento per la prossima stagione. Sono molto emozionato di iniziare la stagione e anche i test, guidare per la prima volta la vettura fuori dal garage a Jerez, è stato un lungo anno in panchina e quindi sono felice di tornare a correre. Ho bisogno di togliermi un po' la polvere dopo non aver corso per un intero anno, ovviamente le abilità di guida ci sono ancora, ma ho bisogno di rinfrescarle un po'. Speriamo che questo non ci metta molto tempo, abbiamo un febbraio di test per cercare di rifamiliarizzare con tutto e vedremo come andrà. Ho una bella stima di Paul, è sempre stato forte in tutta la sua carriera dovunque abbia guidato, l'anno scorso è stato molto forte, penso che quest'anno lo sarà ancora di più, siamo ancora entrambi nel nostro secondo anno, siamo due piloti molto competitivi, sarà una sfida dura ma cercherò di rendergli la vita più difficile possibile. Le mie aspettative personali sono, è difficile da dire, dare un numero, ma decisamente il mio secondo anno voglio stabilirmi in Formula 1, è quello che voglio fare, perciò voglio semplicemente alla fine di quest'anno, del 2012, riguardare la stagione ed essere contento di quello che abbiamo fatto. Grazie. Non vedo l'ora di iniziare la stagione, dopo tutto il lavoro che si è fatto sulla vettura, il cambio di filosofia a metà stagione l'anno scorso per lavorare sul design, sullo sviluppo durante l'inverno, il simulatore, è stato un periodo molto emozionante e vedremo come andrà nella prima parte dell'anno, speriamo che sarà positivo, visto come abbiamo fatto l'anno scorso, penso che tutti abbiano visto che eravamo piuttosto forti, vogliamo arrivare a Melbourne con un buon pacchetto e fare dei punti. L'inverno è stato piuttosto diverso quest'anno, molto più rilassato per diverse ragioni, il mio secondo anno in Formula 1 è piuttosto diverso, dal 20 di dicembre mi sono semplicemente concentrato sull'allenamento, ho fatto due o tre ore ogni giorno di nuoto, di ciclismo, di yoga per essere più in forma possibile, mi sento molto preparato al momento, speriamo che questo sia anche valido per il primo Gran Premio. Penso che abbiamo visto che le ambizioni della Forza India sia quella di far bene nel campionato costruttori, abbiamo fatto già un ottimo lavoro l'anno scorso, ma saremo molto contenti di essere sesti nel campionato, davanti alla Sauber, alla Toro Rosso, penso che questo possiamo farlo di nuovo e il prossimo passo sarà molto grande, penso che tutti siano pronti per la sfida, ma dobbiamo far sì che questo accada. Sono molto felice di essere qui, per la prima volta nel team, è stata una bella giornata per me, ho conosciuto tutto il team, tutte le persone, è una grande famiglia e sono molto felice di essere qui. Farò molti venerdì mattina, perciò sarà molto importante per me, cercherò di aiutare il team ovviamente a lavorare con loro, cercando di migliorare la vettura, di essere il più professionale possibile, cercherò di fare semplicemente del mio meglio, imparare molto con loro, sappiamo che sia un ottimo team per quello che è diventato oggi, ha fatto molti miglioramenti nel passato, negli ultimi tre anni, sono molto felice di essere con loro, di lavorare con loro e farò del mio meglio. Ovviamente avremo la possibilità di guidare una vettura di Formula 1 che non accade tutti i giorni, per via delle nuove regole non è molto facile fare tutti i test che si vuole, sarà una chiave per me quella di avere tempo in pista in una Formula 1 e continuare a crescere con la mia esperienza di guida, perciò imparerò molto quest'anno, sicuramente sarà una stagione incredibile per me e dovrò cercare di fare un ottimo lavoro con il team. Grazie a tutti! 4 2 2 2 Race!